Smettila di fare la vittima per raccogliere consensi, perché io non sto facendo nulla che non sia nel mio ruolo di professore. Tu, al contrario, e qui chiudo, dai del mitomane che è un'offesa molto grave. È una persona che semplicemente sta riportando dei fatti, quindi per favore chiudiamo l'argomento. Se permetti... No, no, ma io ho finito. Io volevo dire che io ho finito. Anzi, posso dire una cosa? Scusami. Visto che non mi piace e credo di essermi spiegato, io vado. Sì, ma vorrei che rimanessi perché vorrei che capisci... No, mi lascia chiacchierare, chiaritemi fratevole. Come vuoi. Allora, io credo che tu hai detto una parola di troppo a Rudy che non era ovviamente giusta da dire. Non volevi dire quello, non lo so, ma non è molto importante tutto questo. I risultati che Rudy ti ha fatto vedere, Oli, sono giusti. Certo. Sappiamo perfettamente che il tuo rendimento dentro questa scuola non mi soddisfa. Ora, te lo dico con il cuore in mano e con l'affetto che provo nei tuoi confronti. Io non so più che cosa fare. Io non so più che cosa fare. Grazie a tutti.